Bentornati a questo nuovo video, oggi ne faremo un indoor, in particolare continueremo l'argomento tarp e progetteremo e realizzeremo una tenda tp, ovviamente non si può utilizzare tarp quadrato per fare una tenda tp, ma utilizzeremo un tarp 3x4 metri tagliandolo opportunamente e rimettendogli gli occhielli per il picchettaggio a terra. La prima operazione che andiamo a fare è stendere il nostro telo e ancorarlo sui quattro lati, per facilitare le operazioni che andranno a seguire. Andiamo a fissare anche un picchetto sull'anello posto sulla linea che divide in due il tarp. Dovremmo procedere adesso a tracciare un arco con un centro picchetto piantato sulla linea che divide in due il tarp, avendo per raggio la seconda metà del telo sulla sinistra o sulla destra, differentemente. In realtà a me serve soltanto un pezzo dell'arco, quello che incontra la linea di mezzo del mio telo. Avrò quindi trovato il punto dove procedere per tracciare il secondo arco, quello che in realtà delimiterà la sagoma del telo della nostra venda. Andrò a piantare il picchetto purtroppo bucando il telo, ma questo sarà il punto del limiterà, per cui posso anche bucare il mio telo. Dovrò preparare adesso quindi il mio compasso, ancora fatto con un pezzo di paracord e il pennarello, per tracciare il nuovo arco. Il qui raggio sarà pari al punto in cui ho appena piantato il picchetto con la lunghezza fino a bordo di questa linea. Provo quindi a assicurarmi, prima di effettuare il taglio, della corretta misurazione del mio arco. Sia, tirando il mio compasso, devo per andare a verificare che arrivi esattamente sui due lati. Direi che va benissimo. Non è facile tracciare veramente un arco sul terreno grosso, ma ci proviamo. Abbiamo disegnato adesso l'arco. L'ultimo lavoro da fare adesso è tracciare due linee dal fuoco del mio arco fino al punto dove è tracciato il mio arco sul bordo inferiore del tiro. Per tracciare la linea userò la corda che ho utilizzato per fare il compasso. Andrò quindi a tracciare una linea dal fuoco del mio arco fino al punto di intersezione dell'arco col bordo inferiore del tiro. Stessa cosa andrò a fare sull'altro lato. Questi due lati dove verrà effettuato il taglio, una volta montata la tenda, coincideranno diventando il lato del cono. Per evitare che la pioggia entri sui lati, devono essere comunque tagliati abbastanza precisi, è conveniente nel taglio considerare di tenere un pezzo in più di telo per sovrapporlo all'altro quando lo andrò a chiudere per evitare che la pioggia entri. Penso che un 10 cm saranno sufficienti. Lo sciodiamo adesso quindi al taglio tentando il più possibile di rimanere dritti sulle linee tracciate. Una volta effettuato il taglio andremo a rinforzare tutti i bordi con del dutch tape, fatto anche il nastro americano. Ci vedremo poi invece a fissare la nuova occhiellatura con il kit apposto. Grazie a tutti. Il risultato è questo, praticamente una porzione di cerchio che andandosi a chiudere e sollevare arriverà a chiudere questi lati formando così il cono della mia tenda TP. Adesso arriva la parte un po' più annosa e difficile perché è bordare con un nastro dritto un borlo rotondo. Adesso ci proviamo ci metteremo un bel po' per risparmierò nel video tutto questo annoso e gravoso lavoro. Una volta applicato il dutch tape su tutto il bordo andiamo eventualmente a rifinire eventuali imprecisioni. Ok, il risultato finale è questo, qui abbiamo bordato la porzione di telo esposta tagliata ed è la stessa dove adesso andremo a occhiellare. Abbiamo mantenuto all'esterno bordata verso l'interno una porzione di telo che servirà ad essere sovrapposta alla linea di chiusura per evitare che la pioggia eventualmente entri attraverso la tenda. L'ultima cosa che faremo adesso è andare a rinforzare la zona sottostante questa parte dove faremo il foro per infilare il bastone che terrà in piedi il TP. Per rifare l'occhiellatura al telo servirà un apposito kit, questo l'ho preso su Amazon, contiene la dima per l'occhiellatura più un punzone per fare i fori da 12 mm stesso diametro degli occhielli che ho preso. Con un punzone da 12 mm procediamo adesso a fare il foro che servirà per infilare il palo centrale della tenda TP. Inseriamo adesso l'occhiello centrale. Fisseremo adesso a una distanza di un metro l'uno tutti gli altri occhielli sul bordo della tenda. Abbiamo messo gli occhielli su tutto il bordo Gli occhielli serviranno per collegare le corde che verranno utilizzate per ancorare la nostra tenda al suolo attraverso dei picchetti. Procederemo adesso ad ancorare qualche occhiello su quello che sarà il bordo della porta della tenda e per permettere così la chiusura. Si è proceduto a questo punto a fissare sul terreno una tenda utilizzando gli occhielli fatti con dei picchetti. La cosa importante è chiudere la tenda, chiudere l'apertura fissando e facendo concedere i due lati in un singolo picchetto andrò a fissare la punta della mia bacchetta nell'occhiello centrale che avevo precedentemente predisposto. sarebbe meglio magari mettere al di sotto dell'anello un pezzo di camera d'aria forata per assicurarne al di sotto l'impermeabilità. Questa la mettiamo sotto. quindi a inserire al di sotto la mia porzione di tessuto che serve a impermeabilizzare eventualmente la chiusura. ecco la mia tp tent praticamente finita. si andrebbe tirata un po' meglio a questo punto. qui è sufficiente magari sganciare uno dei picchetti e tirarla meglio. va ovviamente sistemata un po' meglio. facciamo che questa sarebbe andata molto meglio con un telo un po' più spesso magari almeno 90 grammi al metro quadro che sicuramente è un telo più robusto e più adatto per una cosa del genere. lo spazio interno andiamo a vedere adesso lo spazio interno sganciando uno dei picchetti di una delle due aperture. abbiamo un diametro di una tenda di circa 2 metri. abbiamo adesso al suo interno lo spazio direi che è sufficientemente ampio per sdraiarsi in diagonale sulla tenda. gli anelli che ho fatto sulle due aperture si potrà chiudere dall'interno. è una configurazione comunque molto veloce da montare e molto leggera perché come in tutte le configurazioni i ripari fatti con i tarp basta un tarp e un trekking pull una bacchetta da trekking per farsi un riparo di emergenza. ha molto più spazio per sedersi all'interno essendo alta circa un metro e sessanta ci si sta comodamente anche seduti in due all'interno come vedete ci si può comodamente sedere all'interno e stare comodamente seduti vi ringrazio di aver partecipato a questo nuovo video ci vediamo sicuramente nel prossimo una buona giornata ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo